Quello che mi indigna di più è che ci hanno abituato ad abituarci ai soprusi. Credo che la vera rivoluzione sia nel trovare il coraggio di indignarsi davvero. Prima che sia Natale, prima che questo ossido di carbonio cominci a farci male. Staremo accanto alla finestra e dritti nell'aria della sera. Torneremo a respirare, torneremo alla maniera. Daremo fuoco a queste stanze molto prima che sia Natale. Prima che l'ossigeno che ci danno cominci a farci male.